Che ci sono da scuola oggi? No, non riusciamo a farle due, per me No No Te chiedi? Bravo, bravo, bravo Sì, 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 bravo Andrea, la metta in mezzo per Samu Che la tocca e go Bravo Sì, bravo Sì, bravo Sì, bravo Sì, bravo Sì, bravo Bravo, dai Andre Vai, vai, vai Sì, bravo Sì, bravo Sì, bravo Ora! Bravo! Bravo Samu! Vento Mattia! Dai Samu, dai Samu, non a mollare, Samu! Bravo Pisani! Dai Samu, dai! Dai almeno 50! Cosa vuoi perché? 50! Dai Andre! Dai Samu, dai! Vai, scappa fuori! Giusto, giusto, giusto! Bravo, bravo Gian! Dai Gian, dai Gian! Dai Samu, dai Samu! Bravo, Adela! Il caffè? Vento Mattii! Cosa? Questo non ti va bene? Sono belle, hai 10 di immagine, non fa gare bene. Vento Mattii! �! C flowing! Non fa il caffè, «kgaris!» Cosa, posso? Chiar pure qui. Stacca Gian, attaccalo, attaccalo. Non si dire, non si corre, andrà! Un paio! G지가à y Jesus! immagini quella che gioca qua non lo so forse triple no 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 dai 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 Grazie! Grazie! E Samu va a fare! E Samu! Fallo eh! Dai Samu dai! Dai Samu! Dai Samu! Dai Samu! Sì Samu! Bravo! Perché sono bambino nella condizionità? Il sbaglio di una correzione. Dai, dai, dai Walter dai! Sì, è stato difficile... How do you do? Diиль хорошийashing! I sei chiuso! I posso dare a mano! Dai Samu dai! Dai Samu tei! Non ci�aggia? Dai Samu dai bi anHey Dai Samu dai! Bravo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.